25 aprile 1945, liberazione. Il governo che si costituisce dopo la liberazione dura pochi mesi fino alla fine dell'anno e quello di Ferruccio Parri, il capo militare della resistenza nel nord. Ferruccio Parri vuole accanto a sé, dentro il Ministero della pubblica istruzione come sottosegretario alle Belle Arti, Carlo Ludovico Raghianti, presidente del Comitato Toscano di Liberazione Nazionale e grande, eminente, critico d'arte, nonché intellettuale di primo ordine antifascista di antichissima data. Raghianti è un grande innovatore, in quei pochissimi mesi passati da sottosegretario, egli da un lato cerca di collegare cultura e turismo, una cosa che sarà pensata realmente e soltanto molti decenni dopo sarà realizzata e dall'altra parte è un uomo che crede nel decentramento e pensa che anche il mondo culturale, dopo il periodo di centralismo forzato del fascismo, debba conoscere una fase di collegamento, di ampliamento dei propri orizzonti facendo interloquire la periferia soprattutto sul versante dell'identità del patrimonio culturale. Si tratta di una breve, innovativa, densa esperienza che ricordava il sottosegretariato alle Belle Arti, istituito dopo la Prima Guerra Mondiale tra il 1919 e il 1923 e poi cancellato dal fascismo. Anche allora erano stati i grandi intellettuali Pompeo Molmenti, Giovanni Rosadi a ricoprire quella carica e quella carica esplicitamente nel 1919 era stata ricollegata idealmente al grande esperimento, il primo in Europa di un ministero alle Belle Arti che era avvenuta in Francia nel lontano 1881. Era durata pochissimi mesi durante il governo di Léon Gambetta a Parigi, un grande critico d'arte, collezionista appassionato, Antonin Proust, era diventato un ministro alle Belle Arti. Noi oggi di quell'esperimento non ricordiamo più nulla, più nulla è sopravvissuto salvo lo splendido ritratto di Proust che fu dipinto da dal grande Édouard Manet che era un suo amico. Ma questo filo rosso che collega il primo tentativo di governare le Belle Arti in una maniera tecnica e culturalmente aggiornata del 1881 va a collegarsi nel 1945 con il primo ministero della Repubblica, non della Repubblica ancora, ma dell'Italia liberata, quello governato, guidato da Ferruccio Parri con la figura straordinaria di Carlo Ludovico Ragghianti quale espressione più concreta di un tentativo nuovo di dare respiro al patrimonio culturale. Ecco perché il 25 aprile ha una relazione stretta anche con questo tema.